Dottor Di Muria, è sempre importante pensare alla nostra salute con una valida prevenzione? Sì, certamente è importante. È certamente importante effettuare una corretta prevenzione soprattutto nei confronti delle malattie cardiovascolari, che sono tra le più diffuse cause di morte dei paesi industrializzati. Malattie queste che possono essere modificate da due tipi di fattore. Da un lato possiamo parlare di fattori modificabili, dall'altro lato di fattori immodificabili. Quando riguarda i fattori immodificabili basta pensare per esempio alla familiarità. Ognuno di noi è predisposto per alcune malattie cardiovascolari o per altre malattie. Pensiamo ancora al sesso. Sappiamo tutti che per esempio le donne prima della menopausa, proprio per il loro corredo di estrogeni, sono protette di più rispetto agli uomini per quanto riguarda le malattie cardiovascolari. E ovviamente l'età, l'età è un altro fattore di rischio di quelli immodificabili. Man mano che tutti noi andiamo avanti negli anni, ovviamente perdiamo le funzioni fisiologiche, le nostre funzioni fisiologiche, le funzioni fisiologiche degli organi diminuiscono e quindi aumentiamo il nostro rischio cardiovascolare. Ma insieme a queste, che sono fattori purtroppo che non dipendono da noi, non modificabili, abbiamo tutta un'altra serie di fattori su quali possiamo intervenire attivamente per migliorare il nostro rischio cardiovascolare. E mi riferisco per esempio all'abitudine al fumo, all'abitudine praticamente all'alcol, alla sedentarietà praticamente, ma una cosa fondamentale è la pressione arteriosa. Una pressione arteriosa elevata, infatti che cosa fa? Costringe il cuore a lavorare di più. Questo super lavoro del cuore stressa le arterie, stressa i vasi e di conseguenza praticamente aumenta il nostro rischio cardiovascolare in quanto ci predispone alla formazione di placche di aterosclerosi. Ci sono altri parametri cardiaci da tenere sotto controllo? Beh, Claudia, sicuramente è importante controllare la fibrillazione atriale. La fibrillazione atriale è una patologia del ritmo cardiaco nel quale ci sta un ritmo scoordinato, un ritmo caotico cardiaco. Abbiamo una propagazione degli impulsi elettrici non controllati correttamente. Precisamente abbiamo che gli atri si contraggono in un modo, quindi le cavità superiori del cuore, si contraggono in un modo non sincrono ai ventricoli. Questo cosa genera? Genera molto spesso un ristagno di sangue. Dal ristagno di sangue abbiamo la formazione di un coagulo, un trombo, che poi finisce nel torrente circolatorio. E da qua può finire direttamente al cervello, dando luogo praticamente ad un ictus. Infatti la fibrillazione atriale, in un caso su cinque, genera quasi sempre un ictus. È una patologia diffusa? Sì, sì. In effetti è una patologia molto diffusa. Ne soffre generalmente il 2% degli italiani. Questo rischio aumenta sicuramente con l'età. Pensate che di sopra dei 40 anni praticamente un italiano su quattro è affetto da questo tipo di patologia cardiovascolare. Questa patologia si manifesta molto spesso praticamente con un senso di fatica, si manifesta con un senso di vertigine, con una forma praticamente di dispnea, con delle palpitazioni. Non sempre però questa situazione è evidente, per cui molto spesso il paziente non sa di soffrire di fibrillazione atriale e questo lo espone ancora di più a un rischio praticamente di avere nictus. Dottore, cosa si può fare? Beh, cosa possiamo fare? È importantissimo praticamente fare, come ho detto, una corretta prevenzione. E lo possiamo fare praticamente semplicemente con una misurazione della pressione arteriosa. In farmacia è possibile da oggi e da subito misurare la pressione arteriosa con un nuovo strumento. Uno strumento che è validato per verificare la presenza o meno di fibrillazione neutrale. Quindi basta sottoporsi in farmacia a questa misurazione della pressione e potremo verificare immediatamente la presenza o meno di fibrillazione atriale. Nell'ambito della prevenzione, quali altri controlli effettuate? Beh, oltre al controllo della fibrillazione atriale, soprattutto in questo periodo, in questo periodo che per noi è importante perché è il periodo, generalmente ottobre-novembre, che dedichiamo alla campagna di prevenzione cardiovascolare, oltre al controllo della fibrillazione atriale, che comunque rimane gratuito, al solo costo di 10 euro, praticamente facciamo anche un teleelettrocardiogramma. Il paziente viene sottoposto praticamente ad un elettrocardiogramma che viene refertato da un cardiologo, in modo da avere in tempo reale sia la presenza eventualmente di una fibrillazione atriale e sia pure scoprire delle erettemie che semmai non sono state evidenziate da altri controlli. Oltre a questo, praticamente in questo mese della prevenzione, ovviamente facciamo tutta un'altra serie di esami che sono importantissimi per il controllo del rischio cardiovascolare. Mi riferisco agli esami che poi vengono eseguiti in autoanalisi, come la misurazione della glicemia, la misurazione del colesterolo, la misurazione dei trigliceti. Bastano già questi tre semplici esami per riuscire ad avere un quadro clinico corretto del paziente e quindi dargli un indirizzo corretto. Ma oltre a questo, ovviamente in farmacia, sono disponibili degli esami strumentali importantissimi per una corretta prevenzione cardiovascolare. E mi riferisco all'otter cardiaco, che è una misurazione che ha la durata di 24 ore di tutto il ritmo, di tutta l'attività elettrica del cuore e serve soprattutto per evidenziare delle aritmie silenti o ancora, è importantissimo, la verifica delle 24 ore della pressione arteriosa, quindi l'otter 24 ore della pressione arteriosa. In questo caso verificheremo se durante il giorno il paziente è esposto a questi picchi. Sono tutte varie armi che possiamo sfruttare già da subito in farmacia per effettuare una corretta prevenzione cardiovascolare. Ecco, come si può accedere a questa iniziativa? Beh, questa iniziativa si può accedere venendo direttamente in farmacia in via nazionale 247bis a Padula e prenotando praticamente la campagna di prevenzione cardiovascolare. Oppure possiamo telefonare direttamente al numero della farmacia 0975 74587 per prenotare questo tipo di campagna cardiovascolare. Tutto questo è importante in quanto, come assoluto, valorizza una professione, il farmacista e valorizza un avamposto della salute che è la farmacia.